Un fine settimana standard purtroppo con l'aggravante che c'è stata un'aggressione ad un passante, un ragazzo di 28 anni ha fatto denuncia per essere stato aggredito e derubato di un PC. In questo caso l'aggressore è stato identificato, segnalato come un ragazzo a bordo di uno scooter che ha fatto la rapina. Storie di ordinario caos al portello che nelle notti d'estate, puntualmente il mercoledì, il venerdì e il sabato, ma senza una vera logica anche nelle altre, si trasforma nel regno del disordine dove non esistono regole e sballo e maleducazione si impossessano del territorio. Sempre schiamazzi, sempre gente ubriaca che rovina la vivibilità del quartiere nelle ore notturne e purtroppo questo ci ha fatto capire che i vigilantes che provengono dal naviglio da soli non sono sufficienti. Per fortuna che i vigilantes ci sono, occhi che si aggiungono ai loro nello scattare fotografie di ordinarie follie da pseudodivertimento, ma non bastano. Continuiamo a dire che serve un presidio spesso della polizia, delle forze dell'ordine, non basta un intervento saltuario o solo su segnalazione. Rassegnati, ma non ancora al punto di mollare. Ogni anno ci ritroviamo con l'ennesima iniziativa sotto casa, con l'ennesima violenza sotto casa, con l'ennesimo sporco sotto casa. Siamo, sì, rassegnati, ma non troppo da non voler fare più niente. Anzi, continueremo a segnalare a voi anche che ci siete di supporto e fare segnalazioni costanti alle istituzioni e alle forze dell'ordine.